Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Ora è chiaro, in Occidente c'è libertà di pensiero, di parole e di credo, ma solo per chi canti col coro, per chi cioè si allinea il politicamente corretto. Zero per tutti gli altri. Sono continuo incessanti le tristi conferme e tutte portano a questa stessa conclusione. A dimostrarlo sono ancora una volta i fatti, come l'inaudita decisione assunta dall'Unione Europea di negare i fondi a sei comuni polacchi colpevoli di essersi dichiarati LGBT free e a favore dei diritti della famiglia. Ciò non costituisce solo un'ingiustificata sanzione, bensì anche un'ingiusta penalizzazione, oltre a rappresentare un chiaro monito inviato al governo di Varsavia, accusato di avere tutelato i propri cittadini dall'imposizione di ideologie e dalle pressioni di Bruxelles, che vieta oltretutto sventolando ipocritamente la bandiera delle libertà. Il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, della CDU tedesca, ha dichiarato infatti di essere intervenuta sui sei comuni, escludendoli da un programma di gemellaggi e dai relativi finanziamenti, in quanto i nostri trattati garantiscono ad ognuno in Europa la libertà di essere ciò che è, di vivere come voglia, di amare chi gli pare e di puntare in alto come desideri, purché non si dichiari pro-family ed LGBT free per l'appunto. Perché in tal caso l'UE smette di garantire e inizia a censurare, punire, discriminare. Insomma, ciascuno di noi è libero di pensare, di volere, di credere in qualunque cosa, cui però pensi, voglia e creda anche Bruxelles, non ad altro. Il che corrisponde a una versione alquanto totalitaria del libero pensiero, come ha evidenziato il ministro di giustizia polacco Zbigniew Zobro, che ha condannato la decisione dell'UE annunciando di voler ripristinare il primato della legge su questi abusi. Non possiamo permettere che l'Unione Europea discrimini i cittadini polacchi e i governi locali, ha postato su Facebook. L'Unione deve rispettare l'uguaglianza di tutti, riconoscendo a tutti il diritto di avere le proprie opinioni e di esprimerle liberamente. Esattamente ciò che oggi non avviene. E sempre l'Unione Europea, nello specifico l'inviato speciale per la promozione della libertà religiosa, lo slovacco Ian Fischel, si è rivolta all'associazione spagnola Asteoer.org, che ha già raccolto decine di migliaia di firme in difesa di Don Custodio Ballester, sacerdote pro-life accusato di aver commesso un crimine d'odio per avere scritto un articolo in cui metti in guardia dai pericoli dell'Islam. In particolare, a scatenare l'ira della magistratura iberica, è stato questo passaggio del testo. Non inganniamo noi stessi, scrive Don Ballester, l'Islam di oggi e di sempre, quello che stiamo tentando di far convivere col cristianesimo, con una mano guida le opere di carità, ma con l'altra arma chi ha nienti, quanti si rifiutino di riconoscere Allah e di considerare Mahometto come l'ultimo e definitivo profeta di Dio, che è poi ciò che dice espressamente il Corano, nulla di particolarmente nuovo, eppure niente da fare. Nonostante Islis, Boko Haram, Al-Qaeda e via elencando, col loro pesantissimo carico di sangue e di terrore versato in nome di Allah, interrogarsi sui pericoli dell'Islam è configurato come un reato, almeno secondo la procura della Repubblica di Malaga, che ha chiesto per Don Ballester una condanna a tre anni di carcere, 3.000 euro di multa, l'interdizione dell'esercizio del diritto di voto per tutta la durata della pena, nonché l'interdizione dall'insegnamento e da qualsiasi ruolo educativo per otto anni, oltre ad altre spese accessorie a suo carico, niente meno, una richiesta pesantissima e sproporzionata. Ancora una volta sotto accusa ci sono un'opinione e il fatto di esprimerla. Ancora una volta, come già nel caso dell'omofilia, esiste un pensiero politicamente corretto ed è islamofilo. Chiunque vi si apponga va fermato, censurato, punito. È quanto dichiara Asteoir.org. Occorre fermare il rullo compressore del politicamente corretto, scrive, se non ci opporremo a questa ingiustizia, avremo spalancato la porta ad altri futuri attacchi alla libertà di espressione contro una parte soltanto della cittadinanza, quella che la sinistra decide che non possa esprimersi liberamente. Ormai la censura è globale, per cui riguarda anche il mondo digitale, come è accaduto negli Stati Uniti, dove i social, nello specifico Facebook, Twitter e YouTube, hanno censurato un video trasmesso dal gruppo Medici Americani in prima linea, video in difesa dell'uso dell'idrossiclorochina nel trattamento del Covid, poiché esso avrebbe violato le politiche contro la disinformazione in merito al coronavirus. I padroni del web non hanno guardato in faccia a nessuno, tant'è vero che Twitter ha avuto l'impudenza di censurare anche alcuni tweet del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che si è permesso di riprendere alcuni estratti del video incriminato. Bavaglio anche per suo figlio, Donald Trump Jr. Rio di aver fatto la stessa cosa, il suo account è stato sospeso addirittura per 12 ore. Secondo il suo portavoce, i social rappresentano oggi la più grande minaccia e la libertà di parole in America, con le loro interferenze peraltro nemmeno dissimulate in piena campagna elettorale. In un secondo video, tra l'altro, medici americani in prima linea hanno spiegato come non serve a nulla farsi prendere dal panico, poiché è già disponibile un trattamento di provata efficacia contro il Covid-19, ovvero un cocktail di idrossiclorochina, sostanza da tempo approvata dalla FDA, Food and Drug Administration, zinco e azitromicina, e hanno aggiunto che lo studio, apparso sulla rivista scientifica Lancet, che riuscì a far bandire il ricorso all'idrossiclorochina, in realtà è stato successivamente screditato nel silenzio generale. Ovviamente l'ardire di questo gruppo di medici ha avuto immediate conseguenze, il loro sito è stato completamente smantellato per il fatto, questo il pretesto, di diffondere accuse fraudolente. La posta in gioco, come si può capire, è molto, molto alta, molto più di quanto si voglia far credere e far passare, possibilmente sotto silenzio, narcotizzando le coscienze. Non si tratta delle bizzarrie di qualcuno, bensì la strategia liberticida e globale di molti.